gentili telespettatori buona giornata sondaggio tecnè dire monitor italia di oggi venerdì 6 settembre 2024 il borsino dei partiti fratelli d'italia cresce dello 0 2 al 29,1 il pd scende dello 0 6 al 24 forza italia cresce di mezzo punto al 10,8 movimento 5 stelle cresce dello 0 8 al 10,8 la lega scende dello 0 2 all'8,3 verdi e sinistra scendono di mezzo punto al 6,2 azione scende dello 0 2 al 2,8 italia viva cresce dello 0 1 al 2 per cento più europa perde lo 0 1 all'1,9 per cento mentre altri partiti 4,1 per cento questa è la differenza rispetto al 26 di luglio 2024 grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti